Sono stato sempre un po' ossessionato dalla ricerca di stare bene, di essere felice e in età un po' più giovane mi sono lasciato andare, che lascio immaginare e durante quel periodo insomma mi ritenevo un po' un rifiuto della società all'età di 23-24 anni ebbi la fortuna poi di rincontrare un produttore e mi feci coraggio che chiesi senti ma te posso portare qualche demo o qualcosa insomma da farti ascoltare io mi pure vergognavo ragazzi io avevo una piastra a cassette del 1973 un televisorino piccolo a tubo catodico da 15 pollici una cuffia da 20.000 lire paragonabile a 10 euro di oggi e una playstation 1 con il programma Magic Music non so chi di voi se lo ricorda, cioè un nome così, Magic Music 2000 o qualcosa del genere io mi vergognavo presentarla con le cassette, questo c'erano uno studio della madonna i mixer digitali che si muovevano i cursori da sola a me sembrava, capito, che sta nel paese dei balocchi eh, questo quando mi darà mai retta? fatto sta che lui invece di mettersi a ride, cosa che io al posto suo avrei tranquillamente fatto probabilmente, questa cosa mi ha colpito molto, lo ringrazierò in eterno guarda, c'hai delle idee molto interessanti certo, la qualità, diciamo, delle registrazioni, dell'audio deve migliorare perché così non è possibile incoraggiato da questa cosa qui, cominciai a bombardarlo di demo un giorno, il 14 gennaio del 2001 lo ricordo benissimo quel giorno perché avevo avuto un crollo, un crollo fisico, psichico dovuto a abusi di sostanze e proprio lo stesso giorno, sembrava la trama di un film ma arrivò l'SMS di questo produttore che mi disse Alex, l'ultima idea che avevi portato, che abbiamo sviluppato insieme l'abbiamo fatta sentire hanno deciso di stampare un disco quindi a livello internazionale si sarebbero fatte due, tre, quattromila copie adesso non ricordo quando ho letto sto messaggio ho detto no, ma io qua devo fare una scelta devo decidere se vivere o se morire perché morire è facile il difficile è vivere e sopportare tutto quello che devi sopportare nella vita i momenti brutti, soprattutto quelli brutti perché poi ti fanno apprezzare di più quelli belli insomma ho preso, ho buttato tutto il cesso non la musica, bensì l'altra schifezza e da quel giorno praticamente la mia vita è cambiata quando presentammo questo brano ci diede un anticipo ok, ci diede dei soldi all'epoca funzionava così chi di voi è boomer come me se lo ricorda ci diedero un milione, un milione e cinquecento mila lire ovviamente di 750 euro di oggi come anticipo per un rifiuto della società che lavorava in un'acciaieria con i turni sabbe e domenica per me erano un sacco dei soldi ed era una grande soddisfazione era forse un po' come dire il coronamento di tanto impegno, no? sta di fatto che dopo qualche mese l'etichetta volle indietro l'anticipo perché il disco era andato male boom, ve immaginate insomma te casca il mondo addosso dici porca puttana ma come? lì c'ho avuto un momento che stavo per ricadere poi ho detto no porca puttana io sta soddisfazione non gliela do al mio subconscio, alla mia voce quella che ti vuole far fare sempre le cose brutte che ti fa scegliere le vie più facili non mi interessa cioè questo è il mio primo fallimento va bene, non mi interessa e poi fallimento in realtà non è stato perché il disco ce l'ho appeso in parete e comunque è uscito ha venduto poche copie ma ha venduto qualcosina sta di fatto e poi da quel giorno non mi sono fermato più io ho all'attivo circa 5000 brani uso circa una settantina di pseudonimi quindi una settantina di nomi diversi per pubblicare la musica gestisco 22 etichette discografiche sono tutte le mie e basta per il resto io raga mi piacerebbe tanto rispondere alle vostre domande cosa vi ha colpito di quello che vi ho raccontato di sta storia che sembra la trama di un film quella parte lì ma vi assicuro ve lo giuro che è tutto vero e non mi vergogno neanche ad ammetterlo perché anzi il mio scopo di vita proprio quello che vorrei fare prima di morire è fondare una onlus o un'associazione che salva le persone dalle dipendenze però mi rendo conto che è difficile ci vogliono tanti incartamenti bisogna raccogliere un sacco di soldi bisogna fare delle cose allora parto piano piano intanto faccio la comunione di produttori motivati che non ha niente a che vedere con le dipendenze però spero in qualche modo che poi le mie parole il mio esempio la mia esperienza quella che ho raccolto sia dai libri che di vita vissuta vi possano far superare quei momenti che io ce li ho avuti e non c'erano nessuno che mi dava una mano in quel senso